Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo questa volta su Cult of the Lamb, titolo che ho giocato e portato diverso tempo fa su Twitch, ma che adesso ho deciso dato che, ahimè, avendo preso la versione PlayStation 5 e non potendola giocare al 100% tra virgolette su Twitch, dove appunto esiste l'estensione che per la versione PC permette alla chat e permette comunque di seguire la live e interagire in modo più diretto, consente comunque di portare la tipologia di Cult of the Lamb a un livello superiore. Io, avendo comunque la versione PlayStation 5, purtroppo non posso fare determinate cose e quindi di conseguenza mi ritrovo costretto, tra virgolette costretto ovviamente, a portarlo come serie su YouTube. Perché lo voglio portare come serie su YouTube? Perché intanto è una scusa per farmelo giocare e poi successivamente è anche una scusa per dare magari dei suggerimenti o dei consigli a coloro che si avvicinano al titolo e che magari vogliono effettivamente capire un pochettino quelle che sono in generale le meccaniche del gioco. Ovviamente non sono un esperto al 100% anche perché non l'ho ancora completato. Sono arrivato a un buon punto, sono arrivato abbastanza avanti nella storia e quindi ho visto già determinati potenziamenti, determinate cose che spiegherò comunque all'interno di questi video, però fondamentalmente ancora non ho completato il gioco e quindi non so effettivamente come andrà a finire il tutto. Ma che cos'è Cult of the Lamb? Cult of the Lamb è un gioco sviluppato da Massive Monster che presenta appunto la storia di questo agnello sacrificale che a quanto pare si deve vendicare della sua specie, o comunque deve vendicare la sua specie, grazie al potere di una divinità che conosceremo adesso nell'introduzione e che ci consentirà di ottenere potere tramite i nostri seguaci. I nostri seguaci che ci consentiranno non solo di sviluppare il nostro culto e quindi la nostra parte gestionale del gioco, ma che specialmente ci forniranno dei power up e ci consentiranno appunto di progredire più o meno velocemente all'interno della storia. Perché dico più o meno velocemente? Questo sarà il punto centrale del vostro gameplay. Quindi cercare di costruire un culto basato sulla religione cattolica o in generale sul chiamiamolo tra virgolette satanismo, anche se fondamentalmente non lo definirei proprio un satanismo, ma una sorta di religione più pagana probabilmente, dove appunto si può essere più o meno aggressivi con i nostri follower per ottenere più o meno benefici. Ma questo ovviamente sarà argomento di discussione all'interno del gioco e avremo modo appunto di poterlo vedere insieme. Per quanto riguarda le mie partite, c'erano diverse partite che stavo facendo ovviamente in live su Twitch. Questa era la mia modalità di prova, tra virgolette, che stavo documentando su Twitch e che appunto stavamo facendo in maniera molto più leggera, molto più easy. Questa era una modalità mia un po' più hardcore, sempre tra virgolette, che stavo appunto sviluppando per conto mio. La prima in modalità hard, la seconda in modalità very hard. Mentre invece oggi cominceremo una nuova partita completamente da zero e andremo avanti con tutte le cose che si devono fare all'inizio della nostra avventura, spiegando magari un pochettino come funziona il gioco, come funziona la parte roguelite, come funziona la parte gestionale, che sarà tra l'altro il punto centrale di questo gioco. Da non confondere ovviamente con la parte roguelite, che non c'entra assolutamente nulla con la parte centrale del gioco, perché molti si sono lamentati del fatto che durasse poco. Sì, è vero che dura poco la parte roguelite, ma il punto centrale di questo gioco è la parte gestionale. Quindi fin quando voi non completerete tutto il lato gestionale, non potrete dire di averlo completato al 100%. Per cui cominciamo la nostra nuova partita e iniziamo a vedere come effettivamente si svolge la storia. Quindi ecco prega l'agnello e quindi in generale questa è la storia iniziale, dove il nostro agnello in realtà viene appunto sacrificato, in quanto si impedisce a colui che è stato incatenato di poter risorgere. Quindi come potete vedere l'inizio è molto molto particolare, dove noi appunto comandiamo questo agnello che è poverino, incatenato, deve essere in un qualche modo sacrificato. E quindi ci apprestiamo. Questa è la terza volta tra l'altro che ricomincio il gioco, quindi è un po' stressante a dire il vero, ma molto probabilmente farò l'inizio e poi dopo riprenderò la partita vecchia perché almeno ho qualcosa in più da potervi spiegare. Ecco e come potete vedere qui dobbiamo inginocchiarci per essere sacrificati. Quindi davanti a noi vi è l'ultimo della sua specie. Tutti quelli che abbiamo cacciato e abbiamo ucciso tramite la nostra spada. Con questo sacrificio finale la profezia sarà impossibile dall'essere realizzata, dall'essere completata. L'eretico che mente sarà condannato alla cattività eterna e il culto antico, comunque la vecchia religione, può essere perseverata. Cioè può essere preservata in realtà, non perseverata. Ecco e come potete vedere infatti, uccidendo l'ultimo della mia specie la profezia non si potrà realizzare. Ma quale profezia, ovviamente? Ecco, la profezia che adesso impareremo a conoscere dal nostro capo, chiamiamolo così. Eccolo qua. The one who waits, quindi colui che aspetta. Vieni vicino, non avere paura. Se pensi di essere già morto, io ho ancora bisogno di te, io necessito comunque della tua presenza. Questi predicatori impazziti, questi vescovi, bishops, comunque come predicatori, questi predicatori impazziti pensano che possono tenerti a distanza da me con la morte, invece ti hanno mandato direttamente da me. Io ti darò di nuovo la vita, ma a un prezzo. Cioè avrà un costo. Ti chiedo di cominciare a creare un nuovo culto nel mio nome. Quindi abbiamo l'affare e qui ovviamente le risposte in base a quello che scegliamo saranno comunque uguali. Perché yes, ovviamente sarà una risposta affermativa, absolutely, quindi assolutamente sarà comunque positiva. Quindi il gioco non ti dà la possibilità di rifiutarti. Ed è così che per l'appunto noi risvegliamo il potere del culto con questa corona che ci viene fornita e che risveglia in noi i nostri poteri sopiti. Ed è così che comincia per l'appunto Cult of the Lamb. Quindi noi ritorniamo in vita e iniziamo ad avere una sorta di tutorial per quanto riguarda il combattimento. Quindi possiamo già combattere, possiamo eliminare i nostri nemici, ovviamente io già il tutorial l'ho fatto più e più volte quindi la parte di combattimento ve la posso spiegare anche durante la nostra diciamo durante la nostra perlustrazione comunque dei vari dungeon. Ratao, non avere paura, io sono Ratao. Io ero una volta, ero stato una volta scelto come vassallo come te, ero stato scelto come vassallo una volta come te ma questi giorni ormai sono persi nel vento quindi è passato tanto tempo. Sono stato mandato per guidarti per all'interno comunque di queste foreste e all'interno di questo vecchio culto che praticamente è pericoloso. Le mie istruzioni ti guideranno alla salvezza quindi ti guideranno al safety. Continua attraverso queste foreste sfuggi dalle bugie che ti verranno presentate più avanti e io sarò lì che ti aspetterò. Quindi il gioco ci viene presentato come noi o diciamo in questo caso noi agnelli sacrificali che a quanto pare siamo stati riportati in vita comunque da questo nostro signore che ci ha permesso di che ci ha permesso di ritornare in vita per creare il culto e riportare all'antico splendore appunto la religione di questi diciamo di questi agnelli quindi il vecchio culto l'old faith viene chiamato così old faith quindi il vecchio culto ovviamente l'inventario con tutto quello che si può prendere al momento c'è poco da dire per quanto riguarda sia il combattimento sia per quanto riguarda l'inventario eccetera eccetera quindi per il momento non mi soffermo neanche più di tanto nel combattimento ne parleremo quando affronteremo i nostri primi dungeon e quando affronteremo la prima parte diciamo roguelite proprio per sviluppare il combattimento qua ovviamente ti dicono di schivare per evitare danno dato che ovviamente si può subire danno la cosa importante da ricordare è che non esiste danno da contatto fin quando i nostri avversari appunto non brillano e non effettuano gli attacchi quindi dobbiamo fare attenzione a quello quindi possiamo toccare possiamo avvicinarci ai nostri avversari fin quando non effettuano l'animazione di combattimento ok abbiamo quasi raggiunto la salvezza o comunque la vabbè sì la salvezza ma guarda avanti abbiamo una povera anima che sta per essere sacrificata liberiamola e non avrà scelta se non unirsi al nostro culto al nostro nuovo culto oh potenti predicatori del vecchio fato o comunque della vecchia religione ti chiediamo di accettare questo sacrificio di questa anima dannata ehi chi sta interrompendo il nostro rituale del trapasso sul terreno sacro ecco e qui ovviamente noi dobbiamo combattere come potete notare tra l'altro non abbiamo neanche HP al momento proprio perché essendo questa una fase di tutorial non abbiamo modo praticamente di poter morire almeno in questa fase di gioco proprio perché il tutorial ci costringe a imparare le meccaniche di gioco dalla prossima run in poi ovviamente avremo i cuori avremo tutto eccetera eccetera qui abbiamo salvato la nostra anima quindi infatti adesso il nostro follower ci aspetta all'indottrinamento quindi dal nostro villaggio per essere in un qualche modo convertito ok abbiamo raggiunto la salvezza e abbiamo ci siamo comportati bene la corona rossa ti permette di diciamo di avere ve lo voglio tradurre in italiano nel più semplice possibile in realtà vi permette comunque di effettuare degli spostamenti attraverso grosse distanze tramite i luoghi marchiati ti porterò al templio della nostra diciamo della nostra cultura ormai in decadimento che ti permetterà appunto di creare il tuo nuovo culto ti incontrerò lì quindi ci incontreremo lì ovviamente non tradurrò tutto ma tradurrò le parti più importanti per permettervi comunque anche di capire un pochettino la storia per capire un pochettino il tutto come potete vedere qui abbiamo finito il dungeon ogni volta che si finisce il dungeon si hanno le ricompense e si otterrà una percentuale bonus degli oggetti raccolti quando non si subiranno danni quindi questa sarà una cosa molto importante da ricordare in futuro eccoci qua e adesso siamo nella nostra zona più importante selezioniamo la difficoltà ovviamente extra hard come giusto che sia e possiamo andare avanti eccoci qua allora questo terreno una volta era il mio adesso invece diventa tuo perché questo questo posto diventerà comunque la sede del tuo nuovo culto abbiamo tanto da fare cominciamo subito dall'indottrinamento comunque dalla conversione di questa povera anima che adesso finalmente abbraccerà il tuo nuovo culto i follower possono essere utilizzati come delle risorse per te e possono collezionare legno o pietra in base ovviamente alle nostre esigenze eccolo qua ogni volta che noi recupereremo un follower verrà portato in questa zona e noi da qui potremo ovviamente dare un nome dare un aspetto vedere le sue statistiche e poi assegnarlo a un ruolo o comunque un compito all'interno del nostro villaggio ok quindi convertimi ecco i suoi tratti che sarebbero appunto le sue caratteristiche sono 15% più difficile da level appare e cura del 15% la cura 15% più lento quando rimane a letto malato quindi se si ammala e noi lo facciamo riposare si curerà lentamente niente dei tratti che non sono il top però per essere il primo va bene così e qui come potete vedere adesso gli possiamo dire di recuperare pietra o di andare a prendere il o pietra o legna in questo caso meglio la legna per cominciare eccoci qua il tuo culto crescerà e diventerà fortissimo ma i tuoi follower non vivranno soltanto di preghiera ma ovviamente devono mangiare e quindi bisogna preparare o comunque bisogna costruire la cucina quindi iniziamo a raccogliere magari dei materiali un po' così random eccoci qua giusto per ottenere qualcosina anche perché per costruire determinati materiali cioè per costruire determinate strutture mi serviranno dei materiali ovviamente anche perché come vi ho detto prima la parte gestionale del gioco è la parte principale della nostra avventura quindi costruiamo la cucina qui e adesso la dobbiamo costruire eccoci qua e adesso abbiamo abbiamo sbloccato praticamente la fame nel nostro villaggio quindi raccogliamo delle bacche eccoci qua e adesso possiamo preparare il nostro primo pasto facciamo attenzione a cucinarlo a dovere e qui adesso dobbiamo costruire un templio dove ovviamente avendo comunque più follower potremmo ovviamente ottenere anche delle monete ma questo si vedrà più in là il nostro benefattore ovvero colui che attende the one who waits è stato intrappolato dai quattro predicatori del vecchio culto ognuno di loro controlla una catena e sta a noi appunto ucciderli per poter liberare il nostro signore da queste da queste catene e infatti quindi lo possiamo li dobbiamo uccidere esatto adesso va vai a prendere dell'altro oro e vai a reclutare dei nuovi follower in modo tale da poterli utilizzare come forza quindi convert them by force cioè convertirli con la forza quindi convertirli brutalmente a noi al nostro regno quindi da questo momento in poi noi siamo pronti per effettuare il nostro primo vero dungeon quindi dobbiamo sbloccare la zona in questo caso ci viene segnalata dato che tutte le zone come potete vedere richiedono dei follower quindi come potete vedere qui ce ne vogliono 9 qui ce ne vuole 1 qui ce ne vorranno 6 no 7 se non sbaglio e qui forse 12 si e qui 12 quindi in base ovviamente a quanti follower riusciremo ad ottenere possiamo appunto sbloccare le varie zone le varie aree quindi in questo caso sblocchiamo subito la foresta ovvero darkwood ecco qua e sblocchiamo per l'appunto la nostra prima run ogni run o comunque ogni dungeon in generale deve essere completato deve essere completato quattro volte per sconfiggere il bishop quindi per sconfiggere il predicatore dovremmo completare quattro volte il dungeon ovviamente non sono quattro volte di fila quindi possono essere anche quattro volte separate però è importante sapere che bisogna completarla quattro volte alla quarta volta si affronterà il bishop quindi si affronterà il predicatore anziché un boss di zona come li andremo a vedere in queste run e successivamente si libererà una delle catene che intrappola il nostro il nostro signore il nostro dio quindi andiamo avanti e introduciamo finalmente uh bella lascia la mia arma preferita e introduciamo finalmente il dungeon come si sviluppa il roguelite di questo gioco ovviamente come potete notare le risorse possono essere raccolte distruggendo tutti gli elementi distruggi tutti gli elementi tangibili dell'area incompresi i nostri nemici e questo lo impareremo a breve ovviamente bisogna fare attenzione quando si combatte perché vedete i nostri nemici non faranno danno ma quando iniziano a brillare o comunque quando iniziano a diventare biancastri vuol dire che stanno caricando il loro attacco quando stanno caricando il loro attacco non facciamoci colpire non facciamoci colpire farsi colpire mentre loro caricano l'attacco ci farà subire danno quindi fin quando loro non caricano non esiste danno da contatto però vedete nel momento in cui caricano effettuano il danno quindi bisogna fare attenzione appunto quando caricano ora io per farvelo vedere sono rimasto a mezzo cuore perché giustamente purtroppo ancora non ho i stessi cuori oh e qui abbiamo incontrato il primo NPC del gioco ovvero Klaunek prega l'agnello conduttore di grande potenza colui che ha promesso la libertà di colui che aspetta le carte me l'hanno mostrato una volta tanto tempo fa ho sempre pescato le tue carte ho agnello e questa sarà la tua prima carta prendi queste carte per ottenere potere quindi tecnicamente un po' come su The Binding of Isaac giusto per fare un confronto al volo le carte saranno appunto le nostre passive quindi ci permetteranno di avere dei potenziamenti passivi durante la run mentre invece le armi saranno purtroppo randomiche a meno che di eventi speciali all'interno di ogni run quindi all'inizio di ogni run avremo purtroppo le armi randomiche e questa è una cosa che purtroppo non piace a molti ok il fatto ha parlato ok quindi come potete vedere abbiamo ottenuto praticamente un sol art quindi un cuore azzurro che ci viene appunto fornito dal nostro dal nostro potenziamento passivo che potete vedere sotto gli hp sotto gli hp potete notare appunto quella carta con la x che per l'appunto sta ad indicare il nostro potenziamento passivo quindi come potete vedere abbiamo la tarot card che si vede qui che si chiama The Lovers numero 1 che ci consente di ottenere un cuore azzurro questi saranno tutti i nostri equipaggiamenti quindi qui abbiamo la nostra arma qui avremo la nostra maledizione che per il momento non abbiamo sbloccato il nostro mantello che sarà un equipaggiamento abbastanza particolare e poi altri potenziamenti che vedremo più avanti quindi cerchiamo di completare il primo il primo dungeon ed ecco adesso che ho un cuore azzurro mi sento un po' più tranquillo in realtà ah ne abbiamo preso un altro addirittura quindi ancora meglio siamo ancora ovviamente ancora siamo all'inizio quindi il gioco è un po' più gentile qui abbiamo preso un progetto di decorazione i progetti saranno la parte diciamo di contenuto più particolare del gioco che ci consentiranno di ottenere decorazioni per l'esterno progetti per la costruzione di edifici all'interno del nostro culto e ovviamente estetica come skin per quanto riguarda anche i nostri follower che come si suol dire anche l'occhio vuole la sua parte quindi mi sembra abbastanza giusto investire un pochettino di queste risorse anche su di loro ma questo ovviamente è tutto puramente a discapito vostro è una cosa totalmente facoltativa e non e non vi darà grossi problemi ecco qui adesso abbiamo le stanze così come su Isaac che abbiamo i vari piani qui abbiamo le varie stanze e possiamo scegliere in base a ciò che vediamo come ricompensa di decidere di andare da una parte e dall'altra in questo caso io preferisco le rocce perché le pietre inizialmente sono più semplici da ottenere all'interno del gioco quindi le rocce invece sono sempre quelle che almeno per quanto mi riguarda l'esperienza mia non so se poi magari per alcuni è stato il contrario però per me per esempio ottenere ottenere le pietre è stato sempre più difficile rispetto alla legna e qui abbiamo il boss quindi il nostro primo boss che adesso dobbiamo affrontare qui abbiamo un'altra carta da pescare un cuore nero addirittura come su The Binding of Ice questo è proprio identico questo è stato letteralmente copiato perché ovviamente il cuore azzurro non permette malus o bonus cioè il bonus è semplicemente di avere un HP in più mentre invece il cuore nero ogni qualvolta si viene colpiti effettuerà una porzione di danno a tutti i nemici presenti nella stanza quindi non si affronterà il boss automaticamente ma si dovranno affrontare un paio di stanze e poi successivamente affrontare il boss alla fine della stanza un pochettino come il piano di Isaac che abbiamo appunto tutte le stanze e alla fine del piano poi successivamente abbiamo il boss da affrontare per passare al piano successivo qui è la stessa identica cosa quindi qua fate molto attenzione su come si spostano i nostri avversari ecco vedete mi ha colpito e quindi danno a causa del cuore nero ah eccolo qua il primo predicatore che adesso interviene fisicamente per avvertirci come può essere ti abbiamo puntato comunque abbiamo usato su di te una lama agnello come tutti quelli della tua specie prima di te e adesso sei qui di fronte a me quella corona il suo potere può essere io sono ancora più io sono ancora forte io sono ancora forte piccola capra quindi vattene via cioè scappa con la coda tra le gambe finché puoi piccola piccola capra ecco come potete vedere questi sono degli interventi che i predicatori faranno una volta ogni tanto all'interno del una volta ogni tanto all'interno comunque dei nostri dungeon e il più delle volte infliggeranno degli status negativi ai nostri follower quindi bisogna poi stare bisogna poi fare attenzione ovviamente a quello che succederà ecco qua hai fatto già hai fatto già fin troppa fin troppa strada piccolo agnello il mio follower adesso ti farà vedere ovviamente con chi hai a che fare potrei dire potrei dire lo stesso dei tuoi ok per il sangue del del great one quindi del magnifico distruggi la corona rossa ed ecco qua il follower ecco che si trasforma si sacrifica e diventa il nostro boss quindi facciamo attenzione perché anche se è il primo boss può sembrare una cagata però bisogna fare comunque un po' di attenzione perché anche lui comunque effettua poi vabbè io sono stato abbastanza fortunato ecco io sono stato abbastanza fortunato comunque a ricevere l'ascia come prima arma che proprio è la mia arma preferita in assoluto e che consente di fare tantissimi danni quindi non c'è difficoltà alcuna e come potete vedere una volta sconfitto il boss lo possiamo addirittura convertire tutti i boss saranno followers quindi più boss si andranno ad affrontare più più ovviamente diciamo più boss si affronteranno più followers si potranno ottenere durante le varie run qui ovviamente ottengo legno che è la cosa che mi interessa di più qui abbiamo preso altri soldi e qui come potete vedere al completamento della prima run apparirà il segno di completamento al completamento dei quattro quindi delle quattro run che vi avevo spiegato poco fa questa porta si aprirà e potremo andare a sconfiggere il predicatore detto questo torniamo indietro anche perché ormai siamo addirittura d'arrivo di questo primo episodio che penso sia stato abbastanza interessante come introduzione quindi qui abbiamo le statistiche di fine di fine run ovviamente abbiamo preso risorse e là c'è il tempo che ci viene indicato e poi i nemici sconfitti eccetera eccetera tutte le altre statistiche che ci interessano molto bene mio vessillo sembra che abbia fatto bene a salvarti dalla morte guarderò qualsiasi tua mossa non deludermi quindi quindi non deludermi e qua si ritorna indietro si ritorna diciamo alla nostra terra natia dice sono contento che tu ce l'abbia fatta che tu ce l'abbia fatta in maniera tranquilla quindi che tu sia tornato sano e salvo e vedo che non sei tornato vedo che non sei tornato da solo hai convinto un altro follower a joinare ovviamente la nostra il nostro culto ecco quindi indottriniamolo per poter andare avanti quindi vediamo i suoi tratti ovvero quello che ignora i dissidenti all'interno del culto perché potranno insediarsi dei dissidenti a spargere comunque delle brutte voci o a creare zizzani all'interno del culto anche lui recupero della salute il 15% in meno quando è malato e qui abbiamo anche la diffidenza quindi ogni volta che recluteremo un follower lui perderà immediatamente 10 di fede quindi questo già è un po' un malus abbastanza particolare che non mi piace tantissimo tu invece vai a fare le pietre visto che quello fa la legna esatto adesso possiamo raccogliere la devozione la devozione la dobbiamo raccogliere all'altare quindi dobbiamo creare ecco l'altare della nostra del nostro culto che sarà praticamente la parte centrale del gameplay perché tramite questo si potranno ottenere i vari potenziamenti e le varie strutture per potenziare il nostro culto esatto la preghiera può essere comunque utilizzata per far lavorare i nostri follower esatto quindi utilizziamo i nostri follower per la preghiera e poi successivamente sblocchiamo dei potenziamenti quindi noi utilizziamo il nostro follower che ecco questo è praticamente il contrario di quello di prima quindi ogni volta che recluteremo un follower guadagneremo 10 di fede quindi si va a pareggiare con quell'altro il che è buono 15% di possibilità di farlo ovviamente di farlo livellare più difficilmente e ovviamente abbiamo abbiamo preso praticamente la devozione del 15% più lenta perfetto grazie gioco per darmi questo bonus anche se ovviamente sono in very hard quindi ci sta e qui lo mandiamo a pregare e come potete vedere la preghiera poi può essere ottenuta per ottenere la divine inspiration divine inspiration che ci consente di ottenere ovviamente strutture e cose nuove per il nostro culto in questo caso dobbiamo sbloccare il tempio che è necessariamente la prima cosa da sbloccare e adesso dobbiamo costruire il tempio quindi costruiamolo io solitamente lo costruisco sempre qui sotto in basso ovviamente questi saranno questi saranno comunque degli episodi pilota giusto per farvi vedere un po' l'inizio poi continuerò ovviamente la mia vecchia partita anche perché sono messo abbastanza bene e vi farò vedere ovviamente che cosa bisognerà fare come sviluppare il culto eccetera eccetera vi farò vedere anche le battaglie con i bishops quindi con i predicatori questo mi sembra ovvio e poi continuerò la partita quella mia dove vi farò vedere praticamente tutto il templio sarà il centro del tuo culto e sarà qui dove io dovrò recitare i sermoni per rendere più forti i miei follower potrò anche per formare dei rituali che mi consentiranno di placare la mente dei miei follower o comunque farli in un qualche modo lavorare di più quindi il il templio sarà il centro del gioco dove si potranno fare appunto questi rituali che mi consentiranno di avere soldi mi consentiranno di ottenere tanti benefici ma i rituali li guarderemo piano piano man mano che li sbloccheremo esatto ed è il principale fulcro per mantenere alta la fede che i follower hanno in me mentre invece se la fede continuerà a scendere i follower potrebbero diventare dissidenti o comunque non credere più in me ed eventualmente poi quando perderanno tutta la loro fiducia nei miei confronti abbandonarmi quindi un pochettino come funziona una qualsiasi community di youtube e twitch fondamentalmente ecco perché era carino avere la community su twitch solo che purtroppo io ho la versione ps5 quindi ahimè non si può fa i tuoi follower sono pronti ad ascoltare la tua parola e quindi adesso essendo comunque il leader devo effettuare il sermone il sermone può essere effettuato una sola volta durante il giorno e ci consente come potete vedere di ottenere comunque potenziamenti perché vedete le preghiere ci permettono di aumentare il nostro livello perché questi sono i livelli personali del personaggio quindi ottenere un altro mezzo cuore in più e di conseguenza sbloccare gli altri power up e aumentare ovviamente la fede nei miei confronti proprio perché ho effettuato il sermone ok sei un leader naturale stai facendo tutto molto bene si vede perché sei stato scelto ovviamente bisognerà insegnare anche delle dottrine all'interno della religione in modo tale che i miei follower abbiano delle regole quindi posso istituire praticamente i comandamenti infatti per quanto riguarda il vecchio culto in generale bisognerà trovare i frammenti delle lastre dei comandamenti una volta che si saranno ottenute tre lastre dei comandamenti o per meglio dire tre frammenti di lastra del comandamento si potrà istituire una nuova legge o comunque un nuovo comandamento del nostro culto che poi ovviamente sceglieremo noi all'interno del nostro all'interno del nostro gioco quindi su questo non c'è problema detto ciò io in realtà vabbè il cibo è ancora al massimo quindi non c'è problema possiamo andare a fare un altro dungeon veloce veloce anche perché già siamo a un bel po' di registrazione giusto per farvi vedere i frammenti della tavola dei comandamenti e poi successivamente accumularli per conto mio e riprendere la registrazione o comunque fare un altro episodio poi successivamente per farvi vedere i comandamenti tutto quello che riguarda la parte gestionale e andare avanti con le varie spiegazioni ecco in questo caso ho beccato le dagger che sono orribili dal mio punto di vista probabilmente l'arma peggiore del gioco forse forse solo i guanti mi sembrano un po' peggio ma su questo ovviamente poi ci sono pareri discordanti che ok come sempre ovviamente il dungeon si ripete con le varie stanze in questo caso la cosa che devo ottenere è la tavolozza o comunque il frammento in questo caso di di tavola dei comandamenti ecco facciamo attenzione a questi che sono infamissimi come nemici abbiamo preso una carta possiamo fare danno da poison durante i nostri attacchi questa è ottima ecco come potete vedere il poison ha dei dot che effettuano danni praticamente costanti il che facilita molto le run esisteranno anche le armi poi che hanno poison già incluso nel loro nei loro attacchi fondamentalmente che ci permetterà di risparmiare tempo altra decorazione quindi nulla di particolare ogni bioma o comunque ogni livello avrà le sue decorazioni questo invece è un regalo un gift che possiamo dare a uno dei nostri follower per incrementare delle statistiche e per incrementare anche la sua lealtà nei nostri confronti quindi la lealtà un altro di un altro argomento interessante ok aumentiamo il danno delle nostre armi la lealtà stavo dicendo appunto essere un altro dei meccanismi di questo gioco che ci consentirà di ottenere fiducia nei nostri confronti da parte dei follower e al tempo stesso potenziarci ecco qui adesso possiamo ottenere l'abilità della maledizione e adesso come potete vedere possiamo utilizzare anche gli attacchi a distanza ovviamente gli attacchi a distanza devono essere ricaricati con il fervore che vedete lì in alto a sinistra e quindi abbiamo sbloccato anche le maledizioni ovvero le curse o qui possiamo prendere un follower a gratis o comunque diciamo liberare esatto un follower in questo caso sbloccando comunque delle stanze come potete notare quindi dobbiamo affrontare comunque una serie di nemici per liberare il nostro follower quindi dobbiamo fare attenzione diciamo che dal punto di vista del combattimento essendo in 2D da un lato viene semplificato mentre invece dall'alto potrebbe essere un po' più problematico quindi dipende molto anche dalla esperienza che si ha all'interno di questo tipo di giochi avere più o meno abilità o difficoltà nel combattimento andiamo da questo lato che magari sblocchiamo l'altro npc per le cure forse qui possiamo rubare devozione dal nostro avversario recuperare un po' di fervore e andare avanti allora a breve dovremmo trovare anche le tavole credo perché comunque se non mi ricordo male si trovavano qui nella seconda stanza ecco qua interviene nuovamente il nostro predicatore quindi sei un pazzo un pazzo impertinente o comunque persisti nella tua follia piccolo piccolo agnello sento le tue bugie e odoro comunque sento nell'aria la tua paura la corona rossa sta ritornando sta crescendo di nuovo ma che unworthy quindi colui che non può essere valido o comunque non è non è degno ecco di avere questa corona su di sé quindi ci sta tornando praticamente ecco e qui adesso dobbiamo eliminare i suoi scagnozzi che ci vengono che ci vengono mandati appunto per farci del male e quindi sono come delle stanze diciamo un po' più hardcore queste con dei nemici particolari che ci vengono mandati direttamente dal predicatore in questo caso però sconfiggendo queste stanze si ha poi la possibilità di ottenere comunque delle ricompense particolari ora in questo caso no perché era la prima volta che succedeva ma solitamente può capitare anche di trovare armi o equipaggiamenti nuovi eccoci qua questi sono i frammenti che vi stavo dicendo prima ok questo è il nostro consigliere diciamo chiamiamola così nulla di importante ovviamente ma il fatto che appunto il culto in questo caso può essere ripristinato e come potete vedere quando si ottengono tre frammenti di tavola si ottiene una tavola per l'appunto per impostare una nuova un nuovo comandamento all'interno del nostro culto quindi detto questo io direi che adesso mi completo il dungeon per conto mio mi faccio tutto quello che devo fare e una volta ritornato indietro al culto vi faccio vedere come si deve impostare il comandamento della vostra religione e vi spiegherò anche come si può costruire un culto diciamo benevolo quindi ispirato fondamentalmente alla benevolenza del nostro signore o un culto particolarmente aggressivo che vi permetterà di progredire più velocemente all'interno della storia ovviamente tutto ha un pro e un contro ma questo lo andremo a vedere ovviamente la prossima volta quindi detto questo io vi ringrazio per essere stati con me spero che questa introduzione anche se un po' lunga possa essere stata interessante e noi come sempre ci beccheremo alla prossima bye bye